Con il deposito della sentenza, il Tarveneto ha accolto il ricorso delle associazioni lave e essere animali contro l'insediamento di un allevamento di 11.000 visoni a Villa Dose, in provincia di Rovigo. L'allevamento, sorto tre anni fa a un solo chilometro dal centro del paese e a soli 45 metri dalle abitazioni, dovrà cessare l'attività. La sentenza del Tarveneto censura il comportamento del Comune che durante l'itera autorizzativo non ha ritenuto di acquisire agli atti dell'allevatore tutta la documentazione necessaria per effettuare una valutazione completa e corretta. In particolare non ha qualificato l'allevamento come intensivo, evitando quindi di applicare la disciplina sulle distanze delle abitazioni rispetto agli allevamenti intensivi prevista dalle norme regionali. L'AVE e essere animali da tempo chiedono l'introduzione di un divieto nazionale di allevamento di animali da pelliccia sulla base di motivazioni etiche, scientifiche e sociali. L'allevamento di visioni di Villa Dose dovrà chiudere, speriamo, al più presto grazie al ricorso che abbiamo fatto noi di essere animali insieme alla LAVE al Tar, questo basandoci su molte irregolarità che erano presenti nel momento dell'apertura. Questa situazione siamo riusciti a risolverla anche grazie all'apporto dei cittadini che nel paese questo allevamento non lo volevano. I vicini stessi hanno fornito informazioni molto importanti e ci hanno aiutati a ottenere questo ulteriore importante risultato per gli animali. Che vivevano in condizioni, come possiamo definirle? Le condizioni e gli allevamenti di animali da pelliccia per gli animali sono terribili, perché sono chiusi in minuscole gabbie di rete metallica, sollevati da terra, non toccano mai il terreno, non hanno mai sentito l'erba. Sono animali che in realtà vivrebbero metà del loro tempo in acqua e l'acqua non la vedono mai nella vita. E poi, dopo pochi mesi, questa vita finisce dentro una camera a gas. Quindi, diciamo, situazioni inconcepibili poi per quello che è solamente un bene di lusso, che è la pelliccia.